non è certo comunque presumo che siano uova di poiana dimmi date le dimensioni che sembrano uova di come dice di struzzo quasi paradossalmente ce ne sono altre e questa è una poiana presumo siano di poiana anche dato l'habitat in cui si trova che è un bosco alto con abeti e quindi le poiane so per certo che prediligono le scime degli abeti anche questo è natura anche questo è curiosità anche questo è istruzione ecco proprio guardate le dimensioni e comunque il palmo della mano che vedete bene